welcome a tutti ragazzi ci troviamo su brovalla ci facciamo una bella classificata uno contro uno e cerchiamo di vincere qualche partita e di non fare brutte figure come ieri ci prendiamo il nostro bush anche il nostro vecchietto abile e forte il nostro vecchietto gagliardo che non ci tradisce mai diciamo di non incontrare qualche bersaglio forte ecco come non detto mi regge personaggio schillato schillato ma chissà se forte però attenzione noi comunque ce la mettiamo tutta non vi preoccupate prendiamo l'arma eccolo bastoniamo arma mistica gaiarda ragazzi è forte forte questo qui è forte ci fa anche il culo e non sta un secondo fermo o mazzata proprio in fronte ciò che meritano tutti qua neanche noi stiamo fermi anche noi lottiamo anche noi lottiamo noi gli facciamo prendere l'arma non lo facciamo respirare ci mette il drago contro vai sei di cazzottoni sopra sotto giù esterno laterale tutti i cazzotti che ci servono per vincere cazzottoni 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 sopra sotto dappertutto tensione o sleale ci mena l'arma contro quando ci menano l'arma contro non riusciamo più a saltare ma non ci ne frega proprio niente c'è in realtà ci ne frega perché ci ha tolto l'arma mettiamo in qualche bomba mamma mia che fortuna per ora sta vendola meglio ha recuperato anche aereoplanino che fa sempre comodo ecco qui un'altra mazzata in fronte aereoplani oddio ragazzi mi sono salvato in extremis ve lo giuro questa mossa aereoplanino sì dai cerchiamo di togliergli la seconda vita la seconda vita scusate e vincere questa partita che non è stata affatto facile e ne parlo come se fosse finita in effetti ecco qua ragazzi che combo non sta capendo niente non sta capendo niente vai sei con la serie di cazzottoni attenzione schivo anche l'arma schivo anche lui ci ha colpiti mi ha colpito mi ha colpito speriamo non recuperi come prima serie di cazzottoni bomba schivata come seconda bomba schivata è una schiva bombe cazzottone prendo l'arma maccia non vorrei merda perché davvero sto sudando vai che lo facciamo volare vai che lo facciamo volare vai che lo facciamo volare non sto capendo niente sta volando di qua e di là di qua e di là di qua e di là ragazzi un like almeno per questa partita questo le sta schivando tutte perché anche è abbastanza veloce l'aeroplanino non sbaglia mai che bella vittoria bella vittoria anzi bella partita ragazzi bella partita ne facciamo un'altra anche perché sto assaporando il gusto della vittoria ci sto prendendo molto gusto quindi ne facciamo un'altra ne faccio giusto sempre due anche perché se ne vinco una può essere che ne vinca un'altra quindi si tenta un avversario tutto in pink ma noi lo trasformeremo in nero per tutti i cazzotti che gli daremo non ci fa prendere l'arma e già da questo capiamo che tipo di avversario che ha paura perché non ci fa prendere niente ha paura che comunque lo picchiamo e infatti guardate qui ecco qui aveva paura del nostro aeroplanino il nostro aero on off quest'arma sinceramente mi rompe sempre le maron che ti prende sempre partita molto brutta non è come quella di prima scontro molto aperto qui per lo più devi sempre saltare per non farti vendere c'ha un pochino mazzulati lo devo dire devo ammettere è abbastanza non ecco qui ho ancora tre vite ma non so come non ci fa prendere l'arma noi ce la prendiamo lo stesso cerchiamo comunque eh no volevo dire cerchiamo di togliere un pochino di vita prima di morire ma mi ha anticipato non so se vinco anche questa eh ragazzi è stato molto bravo è stato molto bravo eh niente non ci posso fare niente posso cercare uh questo mi è piaciuto molto posso non so recuperare mi sembra troppo ma comunque portare un po' di onore a casa di onore proprio non ce n'è niente con questa figura di merda e niente ragazzi oggi ci vi ho regalato una vittoria è una sconfitta molto brutta ci vediamo nel prossimo video lasciate un like e un commento se non volete non fare niente fate un po' come vi pare e niente ciao gente